Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincavo e questa è la Masterclass di Power BI. Oggi andremo a vedere DAX Studio, che è uno strumento esterno che si collega alle funzionalità di Power BI oppure Power PO di Excel. È uno strumento molto utile da integrare nel nostro software di sviluppo perché, anche se andati in cerca di altri canali YouTube che spiegano come funziona il DAX, il più delle persone lo spiega facendo delle query con DAX Studio, perché DAX Studio ci permette, tra le varie cose perché poi permette di fare molte altre cose, ma diciamo la cosa principale è che ci permette di connetterci ai modelli di Power BI oppure ai modelli di Power PO di Excel e tramite questo strumento possiamo creare delle vere e proprie query che ci danno un risultato. Quindi se ricordate cosa vi spiegavo, quando noi creiamo una misura dobbiamo sempre ragionare in forma aggregata in modo da avere un risultato aggregato. Però se poi andiamo a fare delle formule un po' più complesse e andiamo a mettere dentro tante cose, a volte diventa difficile il processo mentale anche di memorizzare un po' tutto quello che succede. E quindi se andiamo a creare magari dei pacchetti di tabelle, di dati aggregati, non è semplice magari a mente visualizzare il dato nella nostra mente e quindi riuscire a capire cosa stiamo facendo. Con DAX Studio possiamo fare le query e avere un risultato tabellare delle nostre query in DAX. E come vi dicevo, tanti canali lo spiegano utilizzando proprio questo strumento. Quindi è importante installarlo, integrarlo su Power BI e capire almeno come si lanciano le query. Poi in seguito lo riprenderemo e vedremo anche altre funzionalità di DAX Studio. Allora, dove lo trovo e come lo installo? Andiamo sul browser, quindi andiamo su Google, qui scriviamo semplicemente DAX Studio e il primo link che compare è DAX Studio.org, questo è il sito ufficiale, quindi scaricatelo da qua. Quando arriviamo qui troviamo l'installer, oppure troviamo la versione Portable che può essere utile per chi ha dei limiti sui PC aziendali dove non è possibile installare software e magari anche chiamando il vostro app desk non vi permetterò di installarlo. Col Portable avete un eseguile che si esegue nel momento in cui lo lanciate e lo potete utilizzarlo senza installarlo nel computer, quindi nella versione Portatile. Adesso prendiamo l'installer così vediamo come installarlo, quindi io qui l'ho scaricato, avvio l'installazione sul flash nero che avete visto dalla conferma di Windows e qui mi dice che tipo di installazione andare a fare. Allora, DAX Studio ovviamente il Core, ok, che questo viene installato per forza di cose e poi dice anche se vogliamo installare la DIN per Excel, perché se non lo fengo quando vado a lavorare in Excel con Power Pivot non vedrò la DIN, quindi non potrò connettermi ai modelli di Excel. Lo aggiungo perché tanto non è che cambia tanto lo spazio su un 40 MB, niente di che. Quindi va benissimo flegare tutto, facciamo next e poi facciamo install. In questo momento lui andrà ad installarlo. Adesso vedete launch DAX Studio, quindi facciamo un bel finish e qui si lancia DAX Studio. Allora, quando arriviamo su questa schermata, che è stata migliorata parecchio secondo me, lui che cosa fa? Vi dice, perfetto, dammi l'indirizzo del server al quale vuoi collegarti, quindi se avete un server tabulare mettete qui il link e vi potete collegare al server per andare a collegare il modello all'interno di DAX Studio. Però noi qui stiamo lavorando con Power BI, quindi in questo momento io ho questo report, questo Power BI desktop aperto, che è la lezione 38, e vedete che qui quando avrete installato DAX Studio comparirà anche un menu con strumenti esterni, dove io ho DAX Studio e Tabular Editor, che lo vedremo più avanti. Anche qui io ho due scelte, quindi avvio DAX Studio e quindi vado poi sulla parte di connetti in alto a destra e prendo il Power BI che ho aperto. Quindi se io ho aperto il mio modello di Power BI, lui qui me li trova, se ne ho più di uno, me ne trovo più di uno e mi dice a quale progetto vuoi collegarti, però ricordatevi il progetto deve essere aperto, altrimenti non lo vedete. Quindi da qui potremo direttamente andare a fare connetti. Quando noi facciamo connetti, ecco che qui vediamo quello che c'è all'interno del nostro modello di dati che abbiamo creato con Power BI. Lo vediamo qui e eccolo qui, è esattamente quello che abbiamo usato nella lezione precedente. Se invece non voglio avviare DAX Studio e poi premere connetti, posso andare tranquillamente su strumenti esterni e premere DAX Studio. Quando premerò qui, anzi proviamo che così vediamo come funziona, adesso l'ho chiuso, chiudiamo il browser che non ci serve più. Quindi quando andrò qui che cosa succede? Premo DAX Studio, lui si aprirà e si connetterà in automatico al mio modello, senza dover fare niente. Perfetto. Quando siamo qui, che cosa facciamo? Lui già qui ci dà delle informazioni, vedete? The simple DAX query is in the form of evaluate. Praticamente noi dobbiamo sempre scrivere evaluate quando andiamo a lanciare una query. E poi qui suggerisce anche il Summarize Columns. E dopo vediamo proprio come si utilizza. Allora, qui che cosa succede? Potrei aprire il Query Builder che troviamo in alto, eccolo qua. Allora, io qui potrei fare una cosa di questo tipo. Vengo qua per imparare il DAX, questa è utile anche per imparare il DAX. Io prendo che voglio il prodotto della tabella del prezzo e poi voglio la misura, vedete che anche qui c'è la calcolatrice, voglio la misura della somma del prezzo che avevo creato in Power BI. Dopodiché dico che voglio anche prendere il prodotto qua sotto e voglio filtrarlo in modo che contenga ad esempio Fanta, che era una delle informazioni che avevamo. Ok, fatta sta cosa io potrei fare il Run Query. Se faccio Run Query vedete che lui qua sotto, vediamo se mi lascia fare un po' di zoom, qua sotto mi dà il risultato della query che ho fatto a sinistra. Quindi io ho tirato dentro delle informazioni che è come se le avessi tirate dentro su un oggetto visual di Power BI e lui mi restituisce una tabella. Se tolgo il filtro e faccio Run Query qua sotto, vedete che mi restituisce esattamente la tabella del prezzo. Però la cosa interessante di questa cosa è che qui addirittura vediamo il bottoncino Edit Query. Quindi se io premo su questo Edit Query mi compare la query DAX che mi permette di creare questa tabellina per capire se io prendo questo codice qua, vedete, Evaluate, noi dobbiamo sempre scriverlo per poter eseguire delle query. E poi lui scrive questa cosa, i commenti sono in verde con slash asterisco slash tutto quello che c'è in mezzo è un commento. Quindi se io adesso prendo questo codice per farvi un esempio, vengo di qua. Vengo qua e dico, perfetto, facciamo una nuova tabella. Quando faccio una nuova tabella lui mi dice, tabella di test, tb test ad esempio, no? E quindi devo dare del DAX, quindi se prendo esattamente quello che ho inserito, tolgo l'order by che non serve a nulla, che ho preso da DAX Studio e premo invio, vediamo che creo esattamente in DAX una tabella. Qui sulla destra vedete che compare una tabella con la calcolatrice, perché ho creato una tabella fisica all'interno del mio modello, ma senza passare per Power Query, ho creato proprio una tabella in DAX. Questo è molto interessante perché capiamo che possiamo andare a creare anche tabelle in DAX. E questo strumento ci diventa molto utile, perché magari dobbiamo fare una tabella derivata per qualche motivo e qui possiamo andare a creare il codice in automatico senza nessun tipo di problema. Questo è un tipo di modo per andare ad utilizzare lo strumento e imparare un po' il DAX. Però adesso vediamo un'altra cosa, quindi togliamo tutta questa cosa, togliamo anche questi campi qua e il Query Builder adesso non ci interessa. Quindi vediamo Query Builder, abbiamo un Play qua giù e abbiamo un Rank qua su. Sono due cose diverse perché il Query Builder funziona con quello che mettiamo qua. Adesso io tolgo il Query Builder e andiamo qua e facciamo una vera query. Quindi abbiamo capito che dobbiamo scrivere Evaluate sempre, prima di andare a scrivere qualsiasi query. E qui che cosa devo andare a scriverci? Allora dovrei andare a inserire il contenuto che mi interessa, quindi ad esempio tiro dentro questa misura. Se noi però eseguiamo questa query e facciamo Run, non basta perché vedete che dà ancora errore. Qui per poter avere il risultato noi dobbiamo definire una tabella. Allora, un sistema è che ci portiamo a capo questa informazione e qui andiamo a inserire le parentesi graffa. Quindi facciamo la graffa in apertura, poi andiamo sotto e facciamo la graffa in chiusura. Per chi non sa come si crea la grafica, la graffa, si va sulla tastiera, quindi togliamo questo. E maiusc, alt gr e qui ci sono le due graffe nella tastiera, che sono dove ci sono praticamente le parentesi quadre. Bene, capito questo, vedete che se io adesso vado a lanciarlo, ottengo effettivamente il risultato che mi aspetto. Se poi voglio inserire un'altra informazione, faccio una virgola e trascino, drag and drop, sempre un'altra misura. Se io adesso lancio questa cosa, però vedete che me le mette in riga, non me le mette in colonna l'informazione, perché lui quando trova una virgola le definisce come colonna riga 1, riga 2. Se voglio definire colonne singole, devo utilizzare la parentesi tonda, quindi vengo qui e aggiungo una bella parentesi tonda. A questo punto, quello che è all'interno delle parentesi tonde, vengono definite come campi a se stanti. Quindi se vado ad eseguire, vedete che adesso il risultato va in riga, abbiamo valore 1 e valore 2. Poi come cambiare i nomi dei campi lo capiamo tra poco. Se poi voglio inserire una nuova riga, quindi potrei fare virgola, vengo qua, faccio sempre la tonda, posso mettere anche un'altra misura e qua ci metto magari addirittura anche questa e poi chiudo. Se adesso eseguo questa query, vedete che ho informazioni differenti, quindi ho sempre due campi, perché questo campo corrisponde al primo campo che c'è sull'altra riga che ho fatto con la tonda e questo campo corrisponde a questo, quindi posso andare a ottenere questo tipo di risultati. Quindi questo è un inizio per capire come fare a scrivere le prime query e vedere anche il risultato delle misure. Se io adesso tiro dentro questo, faccio virgola e poi ci metto questo e lancio la query, vedete che va in errore. Questa cosa non la possiamo fare, possiamo fare con le graffe, possiamo solo andare a tirarci giù le misure e andare a vedere che risultato ci danno. Per andare oltre che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare un Summarize Column, quindi possiamo togliere le graffe e introduciamo una nuova funzione, quindi qua potremmo scrivere Summarize Columns, questa qui, ok, e poi qui che cosa gli vado a dire? Praticamente io apro la tonda, posso andare a capo e gli dico guarda dammi la vendita e prodotto ad esempio, prendiamo qui che prendiamo le informazioni da tabella di fatti, anzi, prendiamolo direttamente dalla tabella delle dimensioni che è questa, quindi prendiamo il prodotto e poi faccio una virgola. Perfetto, qua sotto adesso gli devo dare ad esempio la mia misura e voglio avere il sum di prezzo, che è questa. Allora, quando io vado a prendere una misura, oppure poi vado a fare una formula, comunque sulla sinistra va definito il nome risultante di questa misura, perché qui uscirà il campo prodotto e qui è una misura che abbiamo visto prima che dava value 1, value 2. Quindi se io vengo qua e gli dico sum prezzo, sum prezzo, e poi vado praticamente sotto e chiudo la tonda del mio Summarize Column, se vado ad eseguire questa query, ecco che ottengo esattamente il risultato, quindi Summarize Column, prezzo prodotto, sum di prezzo, prezzo. Se io qui faccio solo sum e lancio, vedete che il nome della colonna esce sum, quindi sum prezzo, va proprio fatto così. Potenziamo che qui invece voglio andare a creare una misura per vedere un attimino come funziona, quindi prima l'avevamo creata in Power BI e adesso la vogliamo creare in DAX Studio, quindi questa misura qua non c'è più. Vogliamo andare a creare ad esempio quella del totale del venduto, quindi come facciamo? Qui andiamo a fare come facevamo sum mix, poi abbiamo detto che gli dobbiamo dare la tabella da iterare che era quella delle vendite, poi facciamo una virgola e gli diciamo quantità che vogliamo andare a moltiplicare la quantità vendite, anzi possiamo fare così, drag and drop, tiriamo dentro così ci scrive tutto in automatico, per related, avevamo detto che dovevamo fare, del prezzo unitario, eccolo qua. Se noi adesso qui andiamo e chiudiamo la tonda del relate e la tonda del sum mix e andiamo ad eseguire questa query, vedete che vado ad ottenere esattamente quello che avevamo creato nel primo risultato di un paio di lezioni fa. Quindi questo è per andare a creare le query, possiamo usare sommariz column oppure le graffa se dobbiamo andare a controllare il risultato delle misure a livello aggregato. Questo è giusto un accenno per iniziare ad utilizzare il DAX, poi nella prossima lezione entreremo nella parte di contesto di filtri e andremo proprio a fare delle query qui perché andremo ad ottenere delle tabelle filtrate dal nostro modello. Quindi dal nostro modello abbiamo N tabelle e qui andremo proprio a vedere come applicare i filtri, i contesti di filtri e vediamo che cosa succede quando andiamo ad applicare alcuni contesti di filtri sui dati. Insomma, così vediamo esattamente cosa accade. Cosa che non potremo fare in Power BI se non andare a fare l'oggetto visual e poi testare le misure di volta in volta. Di qui è molto più pratico. Bene, anche con questa lezione è tutto. Se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale pensate magari a stipulare un abbonamento oppure se volete sostenermi in altro modo in descrizione trovate i link Amazon prima di acquistare qualsiasi cosa su Amazon, magari passate per i miei link anche se il prodotto non corrisponde a quello che volete acquistare con cui mi viene riconosciuto qualcosa perché passate attraverso i miei link. Oppure i gadget del canale BI4U, Business Intelligence for Voi che è lo slogan che utilizzo all'interno delle mie live e che propongo appunto a voi come studio diciamo. E niente, vi ringrazio molto per avermi seguito ci vediamo alla prossima lezione. Presto, ciao!